In una delle tende del centro vaccinale della Schirana abbiamo trovato un sindaco, Alessandro Boriani, che sta curando. È qua in una doppia veste quest'oggi, vero Alessandro? Sì, abbiamo come sindaco partecipato all'inaugurazione dell'abba vaccinale ed è stata una grande emozione perché davvero è una giornata storica. E poi da nipote ho portato la mia zia a 85 e finalmente potremmo essere più sereni per andare a trovarla con i miei figli, per cui anche questo è un bellissimo motivo per essere contenti. Quindi puoi dare un giudizio anche da fruitore, da uno dei primi fruitori o comunque del centro vaccinale. Che è il giudizio? Direi che è eccellente, nel senso che è tutto rapido, funzionante, perfettamente. Devo dire che anche ieri ho iscritto invece il mio papà alla nuova piattaforma, è stata velocissima anche quella per cui davvero il lavoro sta andando avanti molto bene. La sensazione della presentazione di questa mattina qual è stata? Direi che la sensazione è quella che viviamo un momento storico proprio del nostro paese, del nostro territorio e direi che tutti i passaggi che stiamo compiendo sono quelli che vanno nella giusta direzione. Si vede che è cambiato qualche cosa nella velocità, nella rapidità di questa campagna vaccinale. Ringraziamo Alessandro Boriani, lo lasciamo alla zia e quindi buona Pasqua. Buona Pasqua a voi.